ooooh AC Milan ciao a tutti ragazzi bentornati benvenuti nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo smaltita smaltita la rabbia la rabbia dopo la partita di Firenze ci ho messo un po' ragazzi ci ho messo un po' ieri vi ho girato il video mi sono tenuto alla larga dai forum mi sono tenuto alla larga dalla pagina del Milan perché non volevo farmi venire il mal di fegato non volevo leggere niente non volevo leggermi tutte le le cattiverie dei pessimisti dei pessimisti sul Milan allora ragazzi classifica classifica di Serie A ovviamente dopo la partita tra Inter e Nabule ha perso perso anche Napoli quindi vuol dire che in questo momento la classifica recita Milan 32 punti Napoli 32 punti Inter 28 punti Atalanta 25 Roma 22 Fiorentina 21 Lazio 21 e Juventus 21 subito sopra al Bologna che ha 18 punti allora leggevo prima qualcuno che mi diceva l'ho riaperto il campionato abbiamo perso male a Firenze vabbè ne abbiamo già parlato nel video di ieri quindi non voglio rimarcare ancora quello che è il mio pensiero basta semplicemente andare a vedere il video di ieri per capire che cosa ne penso della partita ma in realtà ragazzi io penso che il campionato non sia mai stato chiuso cioè siamo ancora comunque in un periodo talmente anticipato verso quello che poi sarà il momento focus del del campionato quello il momento in cui diventerà fondamentale vincere che adesso è talmente presto che parlare una settimana fa parlare di campionato chiuso solo corsa tra Milano e Napoli oggi riparlare ancora di campionato aperto perché il Milano ha perso e il Napoli ha perso mi sembra un po' una bagianata mi sembra un po' una una forzatura giornalaia fatta solo per per attirare due due o tre click all'interno di questa cosa però vi volevo dire e vi volevo dire una cosa a proposito del Napoli tra l'altro aperta parentesina è appena uscito una notizia dove abbiamo un giocatore della Juve che è Danilo che sarà out per i prossimi due mesi il terzino della Juventus dovrà restare fuori per almeno due mesi a causa di una grave lesione muscolare ehm vabbè c'è nel senso ok quindi quindi abbiamo abbiamo capito che gli infortuni muscolari purtroppo non ci sono solo al Milan ma ma quello che ho detto ieri questa cosa qua la rimarco perché forse ieri non sono stato abbastanza chiaro il problema infortuni muscolari al Milan è un problema grave è un problema grave che non va assolutamente sottovalutato ed è un problema che comunque bisogna correre ai ripari e capire insomma che cosa sta succedendo notizia ragazzi è appena uscita attenzione mi è arrivato un clippino qua della notizia appena uscita ecco qua 40 secondi fa Mediaset conferma le news della mattinata e aggiunge praticamente impossibile rivedere Mignan in porta già domenica con il Sassuolo però il portiere potrebbe tornare titolare nelle prime giornate nei primi giorni di dicembre bene 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 Mike l'abbiamo visto ieri chi non ha visto le foto le ho postate sulla pagina i milanisti Mike si stava allenando quindi c'è quindi c'è ragazzi vediamo vediamo cosa succede l'unica cosa che spero non si forzi non si forzi cioè non si forzi il suo rientro perché è una cosa che non va mai fatta allora prima di andare in sigla raga vi devo leggere questo mio pensiero che è Osiman come avete visto ieri non so che ha visto la partita ha fatto un bruttissimo scontro con un giocatore dell'Inter ha riportato delle fratture al volto che lo obbligheranno a stare fuori fino a gennaio metà gennaio con la ri-atletizzazione che probabilmente richiederà circa 15 giorni arriveremo a ridosso della Coppa d'Africa che ti ricordo a tutti che dura un mese quindi più o meno il Napoli rivedrà in campo il giocatore africano tra tre mesi a star bassi più o meno ragazzi è quella perché comunque se hai perché addirittura qualcuno leggevo questa mattina che potrebbe tornare anticipare rientro giocare col Milan con la maschera e quindi potrebbe esserci in quella partita però comunque parliamo di un giocatore e noi purtroppo lo stiamo vivendo sulla nostra pelle i giocatori che stanno fuori tanto tempo poi quando torno non ci mettono un po' tornare in forma e il fatto che torni dopo un mese in cui non si è allenato perché doveva indossare la maschera insomma sono un po' quelle cose lì comunque problema Coppa d'Africa che poi dovremmo affrontare anche noi avendo diversi giocatori che poi se ne andranno via soprattutto a centrocampo bene ragazzi allora io direi di andare in sigla poi vi devo parlare un attimo della Champions che ci vedrà mercoledì impegnati impegnati appunto nella partita tra l'altro una piccola nota curiosa una piccola nota curiosa l'arbitro che arbitrerà la partita mercoledì è lo stesso arbitro che ci annullò il gol a Manchester su fallo di mano di Frank C che in realtà l'ha presa palesemente sul petto e ancora oggi io mi chiedo come sia possibile che il VAR non sia all'epoca non sia intervenuto ok ragazzi bene andiamo poi vi devo parlare di notizie di mercato molto importanti di Champions parliamo di notizie di mercato importanti e poi vi devo parlare anche di in Milan che è un po' in affanno adesso ne parliamo prima di andare avanti ragazzi per riportare riportare fortuna alla C Milan vi chiedo la cortesia di lasciare pollice in su questo video continuate a iscrivervi anche ieri vi siete iscritti veramente tantissime persone quindi grazie 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 di cuore a chi tutti i giorni si iscrive a questo canale quindi chi non l'avesse ancora fatto qua sotto c'è il tasto iscriviti iscrivetevi e abilitate la campanella 1 2 3 sigla partiamo subito dalla Champions e poi parliamo di calciomercato allora Milan in Champions qualificazione agli ottavi molto complicata ma non è impossibile allora ci ho pensato molto a questa cosa questa mattina ci ho pensato molto e sono arrivato ad una conclusione non so in quanti saranno d'accordo con me su questa cosa però io vi dico come la penso poi non è detto che dobbiate essere per forza concordi con me allora se vinco la prossima partita quindi se vinco mercoledì e poi me la vado a giocare contro Liverpool nell'ultima partita perché mi posso giocare la qualificazione Champions va bene ma arrivare terzi e andare in Europa League visto quello che sta succedendo in campionato e cioè visto che noi dobbiamo necessariamente concentrare tutte le nostre forze sul campionato non lo so quanto ci convenga rimanere in Champions League tanti mi dicono anche anche l'ho visto che l'avete scritto anche l'altro giorno sotto un mio video Lollo però mi piacerebbe rimanere in Champions League e andare poi magari a provare a vincerla vero ragazzi però la Champions è sempre una l'Europa League è sempre una manifestazione strana giochi al giovedì poi torni tardi fai fatica in campionato i pochi giorni per riprendere non lo so ragazzi non lo so non lo so poi ovviamente io vi dico questa cosa però se poi dopo va a finire che andiamo in Europa League io me la voglio giocare me la voglio vincere però così a priori a priori il vostro amico Lollo vi dice se posso rimango in Champions se no quel punto fa niente ci penserò un'altra volta preferisco andare insomma andare avanti in Champions è possibile se no penso al campionato e mi concentro sul campionato allora poi vi volevo parlare di questa cosa allora notizia sulla Gazzetta dello Sport questa mattina il Milan si è ristretto tra infortuni e covid in tanti hanno perso la forma e le riserve stanno facendo fatica la benzina dei titolari è diminuita qua non sono d'accordo con l'analisi della Gazzetta perché comunque il Milan al di là di tutto per 75 minuti a Firenze ha dominato e ha dimostrato di saperci stare alla grande poi nel calcio raga ripeto ancora non si può sempre vincere il calcio è fatto anche di episodi Gabbia è incappato in una serataccia ma il club vorrebbe puntare ancora su di lui e tra l'altro ci mancherebbe altro apro una breve parentesi ragazzi so che ho letto dalla compagna di Gabbia che ha scritto questo post dove si lamentava di tante persone che sono andate sotto nell'Instagram di Gabbia a insultarlo di qua e di là ragazzi anche qua ma dove cavolo siamo arrivati cioè ragazzi stiamo sempre parlando di calcio e stiamo sempre parlando di un giocatore di vent'anni che ha sbagliato sicuramente non ha fatto una delle migliori partite della sua carriera ma ragazzi cioè da qua arrivare a minacciare una persona perché siamo veramente alla follia siamo veramente alla follia purtroppo lo vedo anche io ragazzi avendo a che fare con 20.000 persone tutte le volte che pubblico i video c'è chi non capisce che c'è un limite cioè comunque vada anche io qua sono qua a fare il mio lavoro sembrerà strano ma sono qua a fare il mio lavoro quindi tu puoi anche non essere d'accordo con quello che dico però non è assolutamente giustificato che sotto si scrivano degli insulti a me grazie a Dio pochissimi perché comunque il mio canale è un canale al 99% pulitissimo però ogni tanto succede che qualcuno scrive sotto e io oramai dopo tanti anni non rispondo più neanche però mi piacerebbe dirgli ma cavolo ma c'è se non sei d'accordo con quello che dico ci mancherebbe altro ma non è giustificato che lo scrivi in un modo così però vabbè lo dicono a me e quindi immagino io che ho 20.000 follower su Instagram e 20.000 qua immagino a uno come gabbia che chissà quanti ne ha e chissà quante parole si arriva la follia ragazzi follia scusate questo off topic ma mi sembrava giusto farlo il giornale aggiunge che il primo K.O. del Milan è figlio dell'emergenza continua Pioli non non cerca scuse ma il K.O. il K.O. è il K.P.O. il K.O. è figlio dell'emergenza vabbè vabbè fa niente ragazzi allora vi volevo parlare di questa notiziatra di mercato in chiusura Milan tra Sanchez Feivre e Camarà la notizia è riportata da Pedulla e dice questa cosa sul mercato del Milan Renato Sanchez ha parlato Renato Sanchez per chi non l'avesse visto ha rilasciato un'intervista e dice del Milan dice del Milan sono molto onorato dell'interesse del Milan se c'è la possibilità che io vada lì o vada da altre parti a gennaio vedremo io sono pronto per andare in grandi squadre allora su su Sanchez ragazzi ne abbiamo parlato tanto ne abbiamo parlato tanto adesso qualcuno di voi stamattina mi ha scritto guarda che si è fatto male ancora Sanchez ragazzi dobbiamo prendere una decisione su Sanchez cioè so che noi non prendiamo nessun tipo di decisione però come tifosi almeno di questo canale dobbiamo prendere una decisione se andiamo a prendere un giocatore come Sanchez che è un giocatore forte 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 dobbiamo mettere in preventivo che verrà il Milan e la sua storia di calciatore in tutti questi anni ha dimostrato che lui è un giocatore che almeno un terzo del campionato ogni anno da professionista l'ha perso quindi se vogliamo se dovessimo decidere noi come tifosi di adottare Sanchez come nuovo giocatore del Milan quindi dire ok puntiamo su di lui mettiamo già in preventivo che è un giocatore che è molto predisposto agli infortuni quindi sappiamolo 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 Favre resta un obiettivo del Milan non si cambia versione ogni 5 giorni insomma perché alcuni dicono che piace al Milan altri insomma un po' delle balle così invece c'è anche Camarà che può essere un bel sostituto di Frank e C ovviamente o Renato Sanchez o Camarà non è che li puoi prendere tutti e due bene ragazzi penso di avervi detto tutto fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate di Sanchez Favre e Camarà fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate e basta bene ragazzi bene andiamo avanti buon lunedì a tutti ciao a tutti forza meno e vado via il clinter ciao ragazzi ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti